E dopo esserci congedati dai presepi, prima di congedarci da questa parentesi di Faggiano, siamo nella scuola Scandenberg di Faggiano per una iniziativa culturale, per una mostra. Dottor Zanzanella ce la illustri? Sì, parallelamente all'organizzazione del presepe, da tre anni noi organizziamo un concorso di pittura e di scultura. L'abbiamo intitolato proprio premio presepi viventi di Faggiano e in qualche modo ogni anno a settembre lo bandiamo a livello nazionale, tant'è vero che abbiamo partecipanti da tutta Italia, galleristi di fama non solo regionale ma nazionale, e sono invitati un pochettino a riprodurre quali sono le loro sensazioni del Natale. Quest'anno, in occasione del centenario della guerra del 15-18, abbiamo voluto che l'artista si cimentasse nel rappresentare quale poteva essere il Natale al fronte. Siamo ospiti della scuola media Scandenberg, naturalmente ringrazio la preside per averci concesso i locali. Quest'anno il primo premio è stato assegnato alla scultura e a un famoso ceramista grottagliese, che è il maestro Esposito. Inoltre è stata allestita sempre qui nella scuola media una mostra fotografica delle più belle immagini che sono state raccolte dagli ultimi dieci anni del presepe, una mostra fotografica che è stata donata dal nostro sponsor ufficiale del presepe da tanti anni, diciamo dalla nascita, ovvero mitos fotografie di Mimmo Pastorelli.